Conoscere il Giappone e conoscere soprattutto le materie prime conoscere il crudo che è una cosa essenziale per il nostro ristorante noi siamo abituati a mangiare il crudo in un certo modo o a cappaccio o a tartaro invece stiamo cercando di fare assaggiare il crudo il nostro prodotto siciliano in modo giapponese tagliato in un modo diverso è stata una scommessa per i nostri clienti ad assaggiare la cucina giapponese perché anche loro sanno che abbiamo questo rapporto di gemellaggio quindi tutto sommato sono stati soddisfatti i clienti della cucina giapponese In questa tempura che unisce elementi siciliani e giapponesi piena di aromi di pesce e di verdura l'ho trovata una commistione assolutamente riuscita l'abbinata giapponese e siciliano il crudo giapponese con gli antipasti siciliani arancini e il pesce con le mandorle mi è piaciuto tantissimo proprio sono molto soddisfatta secondo me è una cosa che si può assolutamente riproporre e rifare Grazie Grazie Grazie